Precisiamo che i processi li debbono celebrare nei tribunali le persone deputate a farlo. A noi però spetta di avviare questo percorso, come è già anticipato ai Veneti, a tutela dei Veneti, dell'immagine del Veneto e anche per eventuali danni subiti, qualora vi fossero poi di responsabili, e questo ce lo diranno i tribunali. Lei ha detto anche che ci sono dei segnali però insufficienti da parte di gruppi e associazioni, per esempio anche degli imprenditori su aziende coinvolte. Guardi, c'è un comune senso del pensare tra noi, le associazioni e soprattutto i cittadini del Veneto. Oggi però devo dire che questo senso comune del pensare si deve tradurre in atti concreti. Quegli atti che noi abbiamo fatto come Regione, con provvedimenti di sospensione, non di condanna dei coinvolti, e atti che io penso e sono convinto che dovrebbero fare anche le associazioni di categoria, qualora avessero tra i loro associati persone coinvolte da queste inchieste. Pedemontana Veneta per noi rappresenta una grande opera, 2 miliardi e 350 milioni di euro, un'opera che è in cantiere, si realizzerà nel giro dei 4 anni, 4 anni e mezzo, 99 chilometri, 36 comuni e 16 caselli. Questo per dire che è un'opera ovviamente che interessa molti cittadini nei comuni attraversati, un'opera che darà l'esenzione ai pensionati e agli studenti fino all'età dell'università e a tutti coloro un'esenzione del 50% che vivono nel raggio di 15 chilometri dei caselli. C'è da dire che gli esproprii della Pedemontana valgono circa 300 e forse 20 milioni di euro, che sono 320 milioni di euro che nonostante la ferita, nonostante ovviamente le difficoltà, e mi rendo conto e mi metto nei panni del cittadino spropriato, sono 320 milioni di euro che tornano ovviamente nei territori e verranno reinvestiti dei singoli cittadini che percepiranno queste cifre. Ieri Renzi era all'Assemblea degli Industriali di Vicenza e Verona e ha annunciato che sarà anche quella di Treviso. Come la vede questa presenza continua sul territorio del Premier? Benvenga, benvenga anche perché se alla presenza del Premier corrispondono poi i fatti concreti, l'autonomia, l'avere più risorse, non pagare più tutte quelle tasse che stiamo pagando, non avere più il Tax Day come ieri dove abbiamo versato 54 miliardi di euro, benvenga. Certo è che non posso non rilevare che Renzi si è presentato all'inizio della sua luna di miele promettendo una riforma al mese, giustizia, pubblica istruzione, sanità, ha proposto quella del lavoro e così via. Siamo arrivati a giugno che era il mese dell'ultima riforma e non ne abbiamo ancora vista una. Io direi che c'è un buon intento, ma poi alla fine con concretezza gli applausi che ha preso Monti e che poi non ha più preso, gli applausi che ha preso Letta e non ha più preso, sono gli stessi che ha preso Renzi e non prenderà più.